Benvenuti a The Breakfast Bug, io sono Oll e oggi registriamo il terzo episodio di Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Siamo ritornati dal vecchio nel dig site e abbiamo recuperato un oricalco, in realtà questo serpentino qua, e procediamo. Il nostro caro Indy va all'aeroporto e andiamo nell'altro posto che il povero ghiacciolo ci ha detto di visitare la volta scorsa, cioè le Azzorre. Qui, bellissima location, dovremmo andare incontrare il professor Costa. Qui, bellissima location, dovremmo andare incontrare il professor Costa. Tu, tu, tu. Eh, direi di sì. Ok. Questa è la porta. Knock, knock. Mr. Costa? Sì, guarda, sono venuto! Sei fermo, ma politico. Credo che stai vendendo qualcosa, se non è un progetto, non lo voglio. Ok. Chiediamo qualcosa, in realtà è meglio mandare avanti la procace Sofia. Questo vecchiaccio, è il classico vecchiaccio. Io sono Indiana Jones. Sono Costa, e sono freddo di parlare con te. Ok. Indiana? Quale tipo di nome stupido è quello? Quello di un cane. O di un gatto. Bello di andare, Indy. Potrei aver fatto meglio. Eh, fallo tu. Quindi, parliamo con Sofia. Scusate. Sì? Ok, parla con l'uomo. Mi piacere. Mr. Costa! Scusate il vestito! È un pietro tocco. Guarda e appena, Dr. Jones. Bene, ciao, bellissimo! Ok, ci presentiamo. Il mio nome è Sofia Hapgood. Madame Sofia? Siamo ora, Psychic? Ho spero che il mio amico non ti ha piaciuto troppo. È un amico del vostro? Beh, no, non mi ha piaciuto troppo. Ok. Abbiamo bisogno di aiuto. Cosa ci puoi dire dei dialoghi perduti di Platone? Cosa vuoi sapere? Cosa vuoi sapere? Ce l'hai? L'hai letto? Ok, ce l'hai. Non. L'hai letto? Non. Non. Cosa c'è dentro? Cosa c'è dentro? Non c'è un cazzo. Puoi portarlo per me? Scusate. Sai dove possiamo trovarlo? Sai dove possiamo trovarlo? Beh, ora. Questo dipende. E posso portare le informazioni per un artefato raro atlantico, come una certa caccia che ho sentito? Cosa c'è dentro? Non nemmeno prenderò le mie caccia. Beh, allora. Se questo è come ti senti, mi sorprezzami. Ok. Cerchiamo di vendere l'anguilla. Madame, faccio di vendere con nessuno. Grazie per la tua ajuda. Ciao per ora. Ciao. A tua comando, madame. Non sei un strano ora. Ok. Molto. No, 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 no. Parla con Indy. Scambiati i ruoli. Sì. Ok. Ok. Perfetto. E cerchiamo di rivendergli l'anguillone. Al vecchiaccio. E allora? Che vuoi? Parliamo di uno scambio. Ok. Che hai? Ok, l'anguilla. O..? E allora? Ma questo questo bello. Non guarda. Hai un problema, mister. Ma christo? Non si capite da dove trovare, ma... ... ... ... ... ... Il dialogo di Plato è nella collezione di Pierce, capisci? Eh sì. Credo sia. La collezione di Pierce. Molto buono. Noi facendo business con te. La collezione di Pierce? Sai qualcosa Sofia? Credo che Barnett College ha la collezione di Pierce. E quindi torniamo a casa. Ma prima vediamo uno spezzone in Germania. Dottor Ubermann. Fantastica nuca. Colonel! At last! Vedete quello che ha giocato. Che su di terra? Non è incredibile? Tu fiii! Voi tornare a mostrarmi questo... 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 prehistorico? Un'icc-nac? Un'icc-nac? Un'icc-nac, credo che questo'icc-nac, come si chiamato, viene da l'ultima città. Quindi abbiamo scontato! Non vedo nulla evidenza di questo magico metallo, che Plato ha chiamato un calcum? Guardate qui. Inseilato nella base, è una piccola blanda. E glittura come fire! Esatto come lo ha descritto! Esatto come lo ha descritto! Non vedo nulla evidenza di questo! Non si credo! Non adesso non credo! In questo modo... La legge di Urania! senza nessuna radioattività! I'm so smug American Scientist, che non conosceva nulla! Questo mi ha un'idea! All I've placed the bead inside the statue's open mouth! Tu vedi questo? Penso di treni potenziati da queste spetture. Penso di tanti. Penso di aeroplane. Usa la tua immaginazione, Colonel. Penso grande come gli americani. Penso di Bob. Ai ai ai. Bene. Quindi dobbiamo cercare il nostro libro. Che è da noi. Allora, i dialoghi di Platone dovrebbero essere qui da qualche parte. Andiamo in cerca. Ma sì, facciamoci aiutare. Ok. Simpatica. Eh. Chi lo sa. Ok. Andiamo a vedere. Partiamo dal nostro ufficio. Se lo troviamo... Altrimenti di qua non si può andare. Quindi abbiamo solamente sopra e sotto. Partiamo da sopra. No. Partiamo da sotto. Cioè dove troviamo meno intrugli. Ok. Da qua sotto. Da qua sotto, da qua sotto, da qua sotto. Non c'è proprio una ceppa qua. Ok. Prendiamo lo straccio. Pick up. Poi vediamo se c'è qualcosa. Qua non c'è niente. Non c'è nulla. Andiamo a vedere prima nel nostro ufficio. Perché secondo me c'è qualcosa. Da cui partire. E credo sia di là. Vai. Dove poi ci sta aspettando la tipa. Immagino. Corri Indy, corri. Vai. Ok. Ok. No. No. Non solo stai qui. Vai trovare di diagli. Lo facciamo. Ok. Allora, cerchiamo il nostro ufficio. Qua c'è Icebox. Ok. Cosa c'è dentro? Jar. Prendiamo la maionese. vediamo la maionese poi qua non c'è nient'altro qua non c'è una ceppa dopo dovremo andare lassù ok andiamo nella libreria niente la wind non se ne frega andiamo su e vediamo cosa c'è lassù c'è un cazzo niente ok vabbò andiamo di là quindi con la maionese in tasca e direi di partire dalla caldaia che non dovrebbe avere nient'altro di evidente di prima battuta ma in realtà qua c'è il nostro la nostra discesa ok quindi noi qua non possiamo fare nulla ancora e mi ricordo qualcosa di spiacevole da dover gestire con una gomma da masticare ok andiamo su che 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 dovrebbe essere da qualche parte la gomma da masticare eccola lì eccola lì pick up pick up gum pick up pick up alla gum pluck schifo ok qui non credo ci sia un granchè perché non è una collezione privata andiamo su vai su bravissimo indie mitico ok qui cosa c'è qui cosa abbiamo punto di freccia prendiamola very sharp pick up alla questa non c'è niente vediamo il totem poi qui crate apriamolo no niente ok allora dobbiamo salire per salire spostiamo pull totem se riusciamo perché direi che non c'è altro ok non si muove perché il pavimento non è così viscido perfetto usa maionese con perfettissimo pull perfetto pull ancora yes andiamo su 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 vai su ok urna vediamo cosa c'è dentro askenazi ok open scusate look at eh prendilo pick up ashes marcus cosa c'è cosa c'è a key perfetto ci piace la chiave perfettissimo vediamo un po' cos'altro c'è allora gargoyle chest chest statua non si apre ok quasi siamo già passati in realtà ok scendiamo perché forse la chiave si può usare con quella con quel crate spingiamolo eh infatti ecco perfetto c'è un un polverato vecchio contenitore apriamolo non c'è niente no bene torniamo in biblioteca torniamo in biblioteca allora e proviamo un secondo stratagem combiniamo combiniamo lo straccio rosso con la punta di freccia perché eh questo ci può permettere di lavorare su questo scaffale quindi come cacciavite chiuso questa con questo tipetore bookcase questa questo questo tipet with screw ok con le viti la la risoluzione è talmente bassa che a volte open tipetore non so se questo eh sono d'accordo con te devo usarlo con tutte si maledizione tutte use ce n'è un'altra si use e proviamo a aprire questo poi una terza alternativa come non si apre questo screw use questo con punta con la con la vite ok perfetto open ce la fai bravissimo ok non c'è niente dentro quindi non ce la facciamo quindi se non ricordo male c'è un ultimo posto e c'è quella storia della gomma da masticare in caldaia vecchi ricordi quindi dobbiamo usare la gomma da masticare con lo scivolo spuac bravo e walk perfetto e siamo dai gatti c'è 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 vediamo un po' questo stagio vecchio sì siamo d'accordo con te eh ci siamo ci siamo ci siamo è la Pierce è quella che dobbiamo trovare è quella che dobbiamo usare per trovare il dialogo di Platone vediamo un po' cosa c'è qua c'è una ceppa c'è niente 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 interessante qua pic pic vediamo se si può prendere qualcuna di queste wax ok c'era ok è la nostra signora direi proprio di sì quindi usiamo la la statuetta con la caldaia la sciogliamo e lì dovrebbe esserci il nostro dialogo no maledizione use questo with horn use come mai ci piace ci piace quindi use usa fornace con come mai ero ero molto convinto su questo stratagemma open è meglio use cat with fornace eccola lì eh ma dai prendilo trovato ragazzi ce l'abbiamo fatta ti abbiamo messo un po' e quindi abbiamo i nostri dialoghi perduti di platone chiamato the hermo crates vi lascio con questa immagine e vi do la possibilità di leggere quello che c'è scritto e con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio che dovrebbe concludere la nostra ricerca di platone e probabilmente la anzi quasi sicuramente la terza la prima fase la prima parte del gioco che per chi di voi ha già avuto modo di giocarlo o ha letto qualcosa in giro è diviso in tre parti e la seconda è quella un po' più corposa e che metterà e ci metterà davanti a una scelta cioè di agire da soli di agire in squadra o di utilizzare i pugni per andare avanti e noi useremo probabilmente la squadra perché è quella che ci fornisce dialoghi più interessanti vi saluto se vi è piaciuto il video mettete mi piace ci sentiamo presto grazie a tutti